L'assessorato regionale all'istruzione ha pubblicato due bandi che assegnano un totale di 480 mila euro per attivare corse e progetti su educazione civica e legalità. Il primo provvedimento mette in palio 180 mila euro ed è rivolto alle scuole siciliane ma anche alle università e prevede contributi dal valore massimo di circa 5 mila euro per attività inerenti allo studio e la ricerca sui valori della legalità in Sicilia. Il secondo bando prevede invece 300 mila euro di contributi ed è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ad ogni istituto può andare un massimo di 5 mila euro per realizzare laboratori sulla legalità coinvolgendo istituzioni pubbliche e private ma anche associazioni e fondazioni. Le domande vanno presentate in entrambi i casi entro fino a ottobre allo stesso assessorato regionale all'istruzione utilizzando un modulo scaricabile dal sito della regione e allegando i dati del progetto da finanziare. Le scuole siciliane dovranno poi fare un rendiconto entro il 31 maggio delle spese sostenute e se optano per la creazione di una rete le scuole associate devono essere almeno tre e indicare un istituto capofila.